Ebbene sì, anche quest'anno è arrivata la vigilia di Natale, non vi faccio gli auguri perché così ne approfitto domani per fare un bel video, gli auguri a tutti di buon Natale, però godetevi questa vigilia, mangiate e soprattutto ascoltatemi bene fino a fine video perché ho da dirvi parecchie cose, parecchie cose buone ovviamente, e soprattutto torniamo sulla questione impostazione primaria e soprattutto di nuovo sulla questione costruzione. Così vi insegno come fare, sparare bene e in più fare anche rifinitura nello stesso anno, così abbiamo uno scale up, quindi andiamo a lavorare sia sulla impostazione primaria sulla struttura, poi dopo subito a lavorare, quindi due anni in uno, subito al riempimento dei palchi con dei rami più piccolini. Ovviamente ascoltatemi bene perché così capite bene e fate i lavori bene, anzi, un attimo, prima di partire io c'è stato l'open day, quindi tutti i miei discepoli della masterclass sono venuti qua a trovarmi per vedere le mie bombe. In più abbiamo fatto anche una bella manutenzione sui loro materiali, devo dire il livello me lo aspettavo più basso, invece sono contento perché sono arrivato anche delle belle bestie e soprattutto ho messo per la prima volta a mano anche, ebbene sì, a un falso pepe. Per la prima volta Claudio Bonsai ha messo mano a un falso pepe, incredibile, questa è la foto per chi non ci crede, e queste sono le foto dell'open day, ok? Ah, per quelli che mi stanno chiedendo, vorrei partecipare anch'io, quanto costa? Ragazzi, la giornata è gratis, gratis, ok? Così non mi rompete, non voglio storie, tutto gratis, ovviamente però bisogna aver speso prima, se no vi attaccate al cazzo. Quindi potete partecipare nella prossima data soltanto se siete iscritti alla masterclass, ok? Per chi invece non è iscritto, vuole fare una sessione con me in laboratorio, non c'è nessun problema, a breve sto lavorando su un nuovo servizio, quanto riguarda i workshop, ok? Quindi tanta roba, vi dico subito che gennaio sono già pieno, perché ho avuto già delle prenotazioni, e quindi si partirà da febbraio. No, forse gennaio una data ce l'ho, forse però, ok? Quindi iscrivetevi se siete interessati, ovviamente a breve su Instagram metterò qualche foto, una locandina, qualcosa, però ricordate sempre che qui si viene soltanto se si è degni di essere miei clienti, perché ovviamente ci sono delle candidature, e scelgo io con chi avrà a che fare, ok? Poche pugnette. Andiamo a vedere subito, non è per creare scarsiti, perché ci sono pochi posti, non me ne frega un cazzo, se siete miei clienti, bene, se invece vedo che non è il caso, non è il caso. Andiamo a vedere la pianta a 360 gradi, si scotano. Gran potenziale, c'è un secco che fa paura, ci fa veramente paura. Molti l'avano già visto in vendita su Facebook. Ragazzi, se non l'avete presa, mi dispiace per voi, perché ha un potenziale esagerato, ok? È solo un po' da sistemare, ok? Andiamo a vedere. C'è una dinamicità e femminilità incredibile, ed è anche tanto tanto drammatica, perché poi c'è tutto il secco. Super corteccia da tutte le parti, e c'è veramente tutto il secco che gli fa da ala, che gli cammina sopra, e più questo ramo qua. E anche qua dietro, questo magari è, se non lo facevano seccare, era anche meglio. Ok? La pianta non ci sta nel video. Guardate, non ci sta. Eh? Che numero uno. E questa è una cosa interessante. Iniziamo subito a parlare di impostazione primaria. Come vedete, qui c'è stato fatto un primo step. Ovviamente, è un po' da riprendere, però come lavoro va bene. Cos'è che è stato fatto? Qual è l'errore che è stato fatto in questo caso, secondo me? Anzi, non secondo me. Sono state fatte delle potature. E non andavano fatte. Perché? Perché questi sono rami che ancora devono continuare questo movimento che ha la pianta. Ok? Quindi quando abbiamo del movimento della dinamicità, dobbiamo sempre continuare a leggere la struttura primaria, quindi il tronco e quindi tutta la dinamicità. E quindi portare avanti il lavoro che ha già fatto madre natura per andare poi ad assecondare e soprattutto per rendere sempre più sinuoso questo materiale. Perché è molto femminile. Ok? Quindi in questo caso non dobbiamo avere chissà quale ramo basso, chissà quale piede, no? Perché siamo di fronte a una pianta che ha uno stile più da conifera. Ok? Però lo scotano in questo caso si presta bene a questa cosa. Quindi, dinamicità si muove. Continuiamo a muoverci, ok? A far ballare la pianta. Anche questo ramo, come vedete, cade giù in picchiata. Non ci sta, ok? Quindi l'obiettivo del prossimo anno è fare vegetare e riportare su un pochettino questa zona. In più, come avevo fatto vedere l'altra volta, qui andiamo a creare un ramo di prospettiva semplicemente portando giù. Quindi quando lavorate le vostre piante non c'è bisogno di legare tutto. Fate cacciare fuori i rami più che potete. Punto. Fine. Poi dopo, quando la pianta è spoglia, oppure quando la spogliate voi, andate poi a regolare tutta la questione. Ad esempio, anche con piante che hanno dei difetti, che hanno il tronco alto e la posizione tutta sopra. Cambiate inclinazione, ok? Buttate la giusta cazzo di pianta. Cambiate, ok? Perché così, cioè perché sennò vi trovate un palo dritto e con i ciuffi sopra. A quel punto inclinate e uscite con dei rami, ok? Inclinate e uscite con dei rami. Tipo questa pianta qua. C'è un'altra chiave di lettura, se vogliamo, questa pianta. La si può tirare su, ok? La si può anche tirare su così volendo. Si fa scendere un ramo primario così, tipo come se fosse un pino. Un ramo così che gli fa il primo palco. E poi la si può costruire facendo scendere anche i rami di qua e di là. Si può fare, però, mettendo la... Per carità, magari non si vede bene il fronte perché non è ben centrato con la fotocamera. Però si può alzare così. Si può anche girare un pochettino, ok? Per fare un altro tipo di pianta. Però questa, secondo me, è la soluzione migliore. Volendo si potrebbe magari un po' inclinarla, tirarla ancora un po' su così. E far uscire un ramo così. Ci sono più soluzioni, ok? Però bisogna beccare sempre la cosa che è migliore per questa pianta qui. Quindi in creazione, secondo me, può andare bene. Perché poi tutto questo movimento mi piace. Però l'apice deve tornare un po' di là. Quindi bisogna un pochettino ricompattarlo di là. Lo farò semplicemente facendo uscire nuovi rami e ricreando un po' l'apice da quella parte là. Perché se no, veramente, come detto l'altra volta, prende tutta la forma di una canna da pesca. Cioè, dritto di là e poi, boom, rami che vanno giù sotto così, ok? E' l'apice che va sempre lontano dal materiale. Invece l'apice un pochettino deve rientrare. Quindi quando usciamo molto di là, a un certo punto, torniamo indietro. Come l'ultimo olivastro che ho fatto vedere nel video precedente, ok? Da video non si vede tanto. Questa è una pianta che ha un potenziale esagerato. Ovviamente se no, col cazzo che lo apprendevo. Discorso per quanto riguarda la questione rami, foglie piccole, ramettini. Perché ieri tra le piante è saltato fuori un carpino, bellissimo, secondo me, molto bello. Però l'ho visto un pochettino, un po' tirato. Questo perché, primo, il substrato era diventato, siccome era una cadama, il substrato era diventato una mattonella di polvere. E quindi quando succede questo, anche quando annaffiamo, tende poi ad assorbire pochi liquidi. A meno che non facciamo più annaffiature nella stessa sessione per andare proprio ad assorbire bene. Però si creano tutti quei capillarini piccolissimi, veramente, che poi alla fine fanno fatica anche a vivere bene. Quando si asciuga poi questa cadama, vanno ad asseccare. Quindi, prima cosa, come avete visto, molti consigliano di rinvasare i bonsai ogni due anni. Ma per forza, perché con quei substrati lì, che poi si polverizzano, si compattano, è un obbligo. Cioè, non è... Ognuno faccia come cazzo gli pare. Però è veramente un obbligo, perché se no la pianta va in stress. Quando vi fa i ramettini molto sottili sopra, vuol dire che siete arrivati. Ma non è rifinitura quella roba lì, vuol dire che la pianta non ne può più. E quindi fa dei buttini così, tac, tutti gli anni, tac, con l'interno di piccolini, tutti attaccati, tac, tac, tac. Allora, va bene come rifinitura alla fine fare gli interno di più piccoli. Ma quando la pianta vi fa un buttino così e vi attacca tutte le gemme, anche se fate una potatura il prossimo anno, vi riparte sempre con gli interno di troppo vicini, vi si crea un ingorgo di rami, come quello che succede sulla zelcova. Se avete delle zelcove, avete notato che comunque sia vegetato tutto così, vrum, tutto in un punto, vrum, e fanno tutti quegli interno di piccolini. Ma secondo voi, quella roba lì, va bene o è pure una cosa da sistemare? La prima cosa da fare in assoluto è mettere la pianta in un vaso più capiente, in un bel contenitore più capiente, con substrato specifico, granulare, in modo che respiri bene e che sia in grado di fare dei cacci lunghi così, cazzo, perché se no continuate a ragionare al contrario. Perché devi fare dei cacci così? Primo perché, se c'è da fare un'impostazione primaria, c'è bisogno di avere dei rami, perché se no, se avete un materiale senza rami e fate dei buttini così, parte che non sta funzionando. E in più non vi danno anche la possibilità di andare a filare quei rami e di posizionare magari con dei tiranti. Quindi il primo step è quello lì. Per quelli che vi dicono, amo dopo però fai cacci di interno di lunghi, ragazzi, calma, in primavera qualsiasi pianta avete, ok, lavorate in maniera ibrida. Cosa significa? Avanti tutto in primavera, sparate più che potete, così la pianta si rinforza, fa quello che deve fare in natura praticamente, caccia fuori, quindi si rinforza, sta bene, matura bene, lignifica bene i butti, matura velocemente anche i rami e le foglie, quindi non si ammala mai. Poi, quando avete impostato tutto, una bella potatura, però non potare tutto, semplicemente regolare i primari. A quel punto, quando arriverà l'estate, che siamo alla seconda, alla terza buttata di vegetazione, ragazzi, il lavoro di fare i rami più rifiniti, più corti, ve lo farà in automatico, perché la pianta ha dato tanta energia all'inizio, quindi è un pochettino più scarica, la andiamo a ricaricare, però, quando va a raddoppiare dalla potatura, vi farà due rami invece che uno più corti, quindi se il suo obiettivo, l'obiettivo della pianta, era di fare un ramo così, in estate poi, in primavera far ramo così, in estate quando lo tagliamo, la seconda gemma, diciamo, ve ne fa due da lì, però più piccoli. Questa è la rifinitura, questo è il bilanciare la vegetazione, non è far sparare in primavera tutta la pianta dei cazzini così, perché vuol dire che sta morendo il materiale, che è in sofferenza, che è in difficoltà, quindi quando vedete l'acadam, la pianta che fa dei cazzi così, vuol dire che la pianta sotto non è a posto, non sta bevendo e non sta neanche mangiando, quindi attenzione, quindi, non ce la faccio più, scusate, quindi alla fine della fiera, la rifinitura si fa in estate, quando tutti dicono che la pianta va in stasi vegetativa in estate, succede solo a quelli che hanno sbagliato a coltivare in primavera, ok, perché in estate è proprio quel momento opportuno, dove la pianta vi fa i rami più bilanciati, più belli, più rifiniti, più sinuosi, ok, con anche l'interno di più piccolini, però non così attaccati così, che dopo quando rivegeta vi fa il pompon, come se fosse un ginepro, cazzo, ok, e la tifoglie devono venire fuori con i rami, cioè ci vogliono i rami, perché sennò vi ritrovate veramente l'impostazione con i rami, e il palloncino di verde sopra in primavera, e non va bene, quindi primavera si spara più che si può, poche pugnette, ok, così deve essere, secondo step in estate, dopo la seconda buttata, o anche la terza, ultimo giro di vegetazione, magari che sia luglio, agosto, ultimo giro di vegetazione, che è più caldo, quindi la pianta vi fa anche butti più corti, perché c'è anche più luce, ok, continuando sempre a annaffiare, mi raccomando a concimare, vi fa l'ultimo giro di rametti tutti così, ok, quelli vi servono per andare a riempire il palco, spero di essere stato chiaro, non ne posso più, ci vediamo nel prossimo video, buone feste, buona vigilia, ingozzatevi, mi raccomando, e cercate di iniziare a fare una collezione di piante, di materiali seri, perché è veramente, la chiave di svolta, per quanto riguarda i vostri bonsai, ok, e soprattutto, quando avete un materiale, che può essere di valore, non ci capite un cazzo, fatevi aiutare, perché sennò perdete solo tempo, perdete anni, ma perdete anni, soltanto con questi cazzi, dritti, con questi rami, quando vi dico, che avete un materiale dritto così, dategli un'inclinazione, stendetelo, non vi costa, stendetelo, perché tanto avere un palo dritto così, non serve, in più se avete il taglione, stendendolo, avete anche il taglio messo in diagonale, e vi dà anche un pochettino di conicità al tutto, ok, evitate di fare forzature, inutili, con mille fili, mille pieghe, giri, torne indietro, perché avvengono dei lavori che fanno cagare, quindi anche lì, come ultimo discorso, l'impostazione primaria, non vuol dire avere la pianta finita, se uno vi imposta la pianta, e vedete che ha già un look di pianta finita, vuol dire che vi ha messo dei rami, dove non c'erano, partendo da delle posizioni che non vanno bene, come ad esempio, avere un ramo qua, portarlo di qua, perché qui mancano, bisogna avere pazienza, ok, i rami che sono stati qua, li teniamo di qua, a meno che quel ramo, non deve diventare il proseguimento del tronco, e quindi magari bisogna dare design e movimento a una pianta che ha dinamicità, a quel punto da qui si può anche venire qua, si può anche ritornare di qua, e ritornare anche di là, perché tanto fa parte del disegno del tronco, però i rami, quelli primari, da dove escono, devono più o meno stare lì, perché se no, si creano veramente delle robe che secondo me non hanno senso, in più, tutte piante che sono poi in un certo punto da riprendere, cosa significa riprendere? Riprendere significa tagliare e ripartire da dietro, perché se un ramo che da qui viene oltre di qua, oppure rami che tagliano addirittura il tronco, l'ho visto fare anche dai vari professori, un ramo che passa qui, passa davanti al tronco per fare il palco qua, c'è una roba che non si può vedere, smettetela, ok? Cioè nel prossimo video, state bene, a breve ci saranno le nuove date, per il prossimo Open Day, ok? Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!